Faccio tipo... Siamo dentro, buonasera Allora... Individi la live e lasciami piace Bella Berto! 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 Ma Berto! Che ci fai qua Berto? Ti basso in live? Ciao! 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 ... Ciao! lol ma perchè mi dà questo? pippo pippo ti faccio carriare da filo mi hai chiamata così? ma no ho sti quanti commenti ma no ma perchè con gretia? buon di bert vieni a vedere la mia live ok bella robie ma perchè dobbiamo andare là in fondo? andiamo qua ormai sono già atterrato robie se ci sei ancora ieri ho carriato due win solo v squad a joele tre visanna e tomaso rinaldi no io ti stavo spettando oggi con mille centa di film vale comunque con mille centa di film per 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 si si robie hanno riattivato i rift colori per 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 se è più scomodo per me e per voi perché è brutto esatto è più brutto da vedere almeno rovi la visuale continua a far così perché giocavo con sensibilità alte quindi ormai mi ero abituato a fare questo movimento per ristabilizzarle perché a volte mi si muoveva da sola quindi adesso lo faccio sempre così c'è un pull su pull ho fatto sbagliare la pesca la professionista c'è gente che mi ha fatto il culo io ho fatto questo qua sulla scala si ha fatto il culo 1 c'è uno da me commentate voglio vedere se funge un po' non funziona più ma quella roba lì dell'accetto di fianco quindi hanno un telefono l'accento esatto la vi faccio così bravo aspetta gare coprimi un attimo che metto il telefono di fianco con la live ah raga visto che ci sono mette anche la copertina copritemi c'è coprimi ma tu riesci a metterla copertina da youtube studio c'è anche mentre fai il live si da youtube studio perché devi andare in mostra altro e ti riesce la tua live e fai metti dopo metto la copertina ora c'è giusto c'è giusto il l'accento il tra di vita no non non credi non 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 a apri cavali quindi a per cercare non farlo curare e ci ha assicurato il massimo il titolo della mani non poteva essere più corretto guarda o entra lì dentro della tecnica dell'impresa si vabbè ma distrutto ragazzi temi se si vede la copertina ho sbagliato anch'io però commentate così vedo se rispondere i commenti mi piace un commento non mi offendo ma dove devo andare per metterla a me non la fa mettere ma ci sarà altro video no non me la fa mettere ora l'iphone che è un po rimballato devi andare su youtube studio schiaccia mostra altro e si dove c'ha analytics video commenti allora vai su youtube studio devi scaricare l'app si ce l'ho ok vai analytics c'è scritto mostra altro pubblico c'è scritto visualizzazione in tempo reale ultimi video pubblicati e ti e c'è live mi faccio calare da filo schiacci e trovato 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 sì l'ho destinato aspetto sì ma per una copertina l'ho intanto entra nel mio party che pubblico così poi ti posso invitare subito ok ok copertino ok copertino copertino ok copertino messo lo prendo con un c io ho messo una copertina capitana america io ho messo una copertina capitano america ok l'ho io ho messo questa che ho fatta io con la copertina quindi mi piace la ho fatta io con la copertina io una volta mi faccio quale di full guide ma quella di fortnite non ci ho sbatti no ero 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 perché c'ho una schermata nera fissa via perché non si dice il gruppo che non sono anche da dire guardando alto squadra squadra meno che tu voglia essere arato in creativa io ho ripreso a giocare ieri ho fatto subito due vittorie con 15 kg perché la gente ma no ma perché la gente continua a bruciare l'ora un certo punto mi sono rotto le palle ho detto vabbè adesso visto che tutti mi fuggono qualsiasi cosa vedo muoversi la puccio no no facciamo squadre divertente adesso è divertente anche perché ci sono tutte le cose le armi vecchie finalmente perché io la pubblica non lo facevo più perché c'erano tutte le armi brutte adesso che ha rimesso con le vecchie molto più divertente finalmente hanno levato il tattico per l'unica cosa che mi dici molto però ti prenderà aiuto 90 meno male troppo forte qua c'è un po in più nella casa quella che era una volta la casa rotta la caccia c'è un caccia bianco accennati dal compadre mondo bianco come vuoi come vuoi prendo caccia sopra caccia caccia il caccia il nome preso il nonno vai vai quanti speccio 3 tra cui uno sono io e l'altro ma robì ma c'è che ero ma se poi si è proprio o che le vostre arrivo aspettami dimmelo tre volete per anni scolto questo fatto da te 160 ho fatto sto qua mi passa troppo alla quale si è un re no perché mettiamo pronto torna robin ma c'è la prima partita ma ti vanno a rubare dalle spettatorie o pipo dimmi io tolgo il zainetto su sto skin perché è orrendo si è la cosa più brutta dell'universa mi sa che tolgo anche il suo piccone mi sa che gli metto la pilota perché è molto più bella ma io sono in line oh baudo baudo che mi insulta che urto che ha calma ma non è baudo no ah no è lave è pop è pop è pop ma quanti hanno quel robo lì sono 25 cosa c'è urto e è la cosa più brutta dell'universa robin che scrive riguarda che gare fa ma quale è robin e robin cioè gare diciamo quale è robin e robin l'unico ed inimitabile si no 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 guarda se ti piace buone è bella la mia copertina non l'ho vista bella bella come hai fatto a farla c'è un altro che te lo fa fare mi si chiama mi si chiama mi si chiama pixar pixar le scariche le immagini o tra gli scondi rispondi 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 prendi rispondi prendi io ho preso una fonda da google a casa se vuoi che lo porto vabbè no li trovo c'è cosa che scrivi per trovarlo ehm sfondi sfondi cosa sfondi sfondi fortnite sfondi 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 poi scrivo il colore dello sfondo che voglio poi ci appiccino se provate di ah capite ci sono già fatte la maggior parte eh la maggior parte degli adesili sono già fatte quindi travi che l'ho già fatto lo ingradisce al massimo eh eh ma vuole essere le palle di lava le palle di lava le palle di lava non è no 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 scimmie da me era l'aiuto eh si anche da me bravo ho trovato tre combatti in una casa arrivo Roby che non ancora orco bonna ma questo che mi rende lo sono ritrovato in casa eh tieni guarda eh scendi tu quale vuoi un po' appasito scimmie sfondate Ucchi ora ho ancora capito che ho passato per e lo sa perché mi la vera va ora non ha materiali ha minaming una er la guerra gr tra con pa schifo che non posso fare ma arti vado subito start schiaccio foto gratis sfondi male fatemi la cerca da google massima uguale spondi forse bondi verdi vai su no vado su google è meglio anche google cerca spondi fanno coppia nemmeno di sfondi 1 31 on di colore blu ogni forte ma io per gli sfondi di forte il suo porto nel scopertine faccio prima alle perché le mani sono gli sentiti uguali ciali corti in pratica mi escono io copertine fortnite ma no ma cerca spondi non è vero arrabbiata è brutta non 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 ma non 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 ma perchè è il commercialista giusto? mi pisa che sono in live in live in live ormai sono in live su fortnite ne lo so rispetto a full guys molto però i miei amici dicono questo no si plus allora vanno all'ecchiais viste vogliamo andare in creativa andiamo al lago l'anguille anche l'autorità non ci sono più di scagnozzi E il popat Però creativa riempi E lui siamo a lago Lannino Con un aereo di fianco E tutti che ci vogliono uccidere E senza ale Questa si che non è buona Sono attirato su un cerchino Pensando fosse un assalto Questa si che non è buona Si che non è buona Una revolver Frappelli, frappelli, frappelli Guarda cosa ho trovato il mio Mi ho trovato il mio bagno Pistrelo Arrivo Con un cieco Arriva da 5 secondi Mi sto spaccando due cose Per lo scudo Arrivo Ho trovato gli sceglini per te Lallo Niente c'è via Giai sceglini Avevi Avevo Lallo Staccali Allora sto con io Ma non è che vi volete grisciare Belli ignoranti Oh No Sono in live Non posso Prova ad andare La massa del genio Vediamo se riesce Ballo Andiamo a prenderci l'armi mitica Con tanto di assalto Quello chido No Mi piace Quello assalto Faccio Quindi No Beh Solo tu L'hai fatta Arma mitica No Niente Scassato No Sono quasi Portato di primo Mamma Guarda che io non vengo Eh Sono in live Cosa devo dire Viene Pippo Io l'ho letto Prima Vaga Help E perché mi devo andare a prendere i tipi Raga da me sono in due No 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 Non arrivere Sono morto Uno è sceso Vai da lui Vai da lui Vai da lui Uno è sceso L'altro non lo so Non provare a genitor L'ho letto C'è anche l'altro Ok sono entrati nel nostro palazzo Sono entrati Sono entrati Arrivi veramente Te la metto così Da Lollo colpi di pompa Io sei No sette Dietro dietro Ma tolto 50 Ma tolto 173 a 1 Io entro nel palazzo Lollo Io sono entrati nel palazzo Faccio il giro Arrivo Andrata Morto 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 Lollo Mollo Ho detto Morto Morto Mollo Arrivo Gare Arrivo Gare Ma io C'è un cuore Questa Qua Ho sentito un altro Sparare No Ah qua qua L'ho sentito E' qua sotto Ho bisogno di Chapter Sono sicuro Mi ricordo Mi stanno scoperto Mi stanno scoperto Mi stanno scoperto Mi stanno scoperto Mi è esplodio E' un altro palazzo Quando ci parla Vanno in giro Occhio 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 Bianco No No I mazzo Ho finito I mazzo Rai curatemi curatemi Raga venite a curarmi Che arriva gente Caccone No L'ho solo Soperto Scendi qua Scendi qua Scendi là Scendi là Mettila trappala Sul soffitto A caso Bravo Arriva Grazie Hai bene Volevi Volevi Ti farmi Abbivino Hai Volevi 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 Oh mi serve La parola di grudo Ma hai cura Oh sta curando Sta curando Ma guarda che cura Anche quelli vicini Ah davvero Aveverà Vieni Ci pusciano Io non ho matto Zero proprio Via via Fugi Fugi Eh ragazzo Come il rich Ah Eh Quattro Ma Raga Con Raga Scello Lovino Ma La pari Gruppo Danno Ah si One shot Davvero Anche Lollo No ma Non ti vedo No Bella Andre Si puoi giocare Puoi giocare Solo se Vieni a lasciare Like Alla live Io Ma Andre Vilain Ha detto Che la parola di grudo Non fa danno Si Fa One shot Andre Si C'è un sicuro Sì Sì No, raga, la mia scheda! No. La se la vado a prendersi. Valla a prendere te, Lalo, corri. Corri, Lalo, corri te, corri te. Vai te! Veloci! Basta che va qualcuno, raga. Eh, vabbè, sono morto. È sopra. 9, 8, 5, 4, 2. Mamma mia, 0 secondi. Lalo, vieni qua, Lalo, vieni qua. Eh, basta che ti accessi sul mio canale, provi. Andrea, basta che ti accessi sul mio canale, o almeno mi cerchi. Tirati una benda. Madonna, cosa ho fatto? Sì, me li hai disintegrare tutti e io poi li ho uccisi per fortuna. Cioè, meno male che li hai distrutti, perché sennò... Ciao. Scigli, non esistono. Sì. Sì, è un'altra la bianca. Sì. Eh, sì. Sì. Aspetta, arrivo. C'è un commento di Dio. Ok, no, io ero... Sì, sono rompendo. Ve la faccia un commento, Andrea. No, ho sbagliato. Vabbè, ho fatto una missione, io sono Groot. Ho fatto una missione, io sono Groot. Lollo, prendi la macchina e vieni da me. Bla, 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 la gioco con me. No, hai distrutto la gomma. No, hai distrutto la gomma. Metto pure la radio con la... Con copyright. Ma cosa me ne frega il copyright? Manca avessi mille iscritti. Ma sapai cos'è che ti voglio? Ti distanzi il canale o no, no? No, no. Ma l'ho già fatto, tanto non mi ha giusto niente. Ma questa è Cardi B? Sì, va. Oh, via la la. Eh, ciao, Nallo. Mipi, guardami. Ma vabbè, dovete andare a morire a rassarmi, eh. Sì, sì. Ciao, Lollo, sono già andato. La p***a. Ma troppo che sei morto. Infetta, c'è questa qua più bella. Sì, qua da me c'è un'altra Lambo, però hanno trovato un'altra più bella, nera. C'è una marrone. Lollo, c'è una Lambo qua. Non questa qua nera, questa qua nera è la mia. Ce n'è una marroncina di fianco, devi fargli il pieno, però. No, ma gli ho qua i tape. Oh, però, a me se sei questa strada... Vieni, Lollo, vieni con me, Lollo. Anche c'è coltanto ragazzo, devi fargli un giro a me. Nengi... Nenanana... 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 Mipi, senti? Sì, no. Sì, no, questo è Fortnite. Non è c'chia. Fortnite. Non so. Però a me non piace c'è. Tocca mi la Lambo e ti fucilo. Oh, c'è gente da me, raga, no, non li ho visti. Stavano prendendo il coso. E a me vengo lì con un acorde. Non ho armamenti. Sono nella palla di Groot. Lollo, aiuto. Usa la palla, ma no. L'ho appena usata la palla. Stai via. Non posso, sono bloccato. Ho quasi finti massa. Stam prendendo l'eye ground. No, sono muoio. Un altro acorde. Dove è tanto tra blu o uno. Grazie. Ancora un altro. Chi è che mi ha cecchionato? Chi è che mi ha cecchino? Ma come ti pensi a andare a me? Ci è che non lo ha. Chi? Eh, c'è un cintanzarino. No, non c'è. Non ho pensato, tranquillo. No, la che ho ha cecchionato la galaxi. Perché mi devi finire, brutto città, è schifo da mondo. Uno giù? Con la gaspa giù? No. Lollo può insultare se vuoi. Sì. Questa cosa è lo miro tu. Porca minestra. Uno, quello con la palla che non va a fare. Lollo puoi insultare se vuoi. Porca minestra. Uno di vita. Vai. Ma la palla di grotto non fa un tubo. E' inutile. E' inutile questa. E' quello della live rocket mods. Andrea Vilella. Buono. Andiamo a un certo gioco. Che si è giudici. E' giudici. Ciao. 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 la raga dobbiamo fare un pozzo creativo? yes Oh Rata ma che segno sto metto alla Renegade? Avete qualche segno a te da consigliarvi? Alla Renegade a nessuno Non devi mettere lo zaino No, la Renegade quella di fuoco Eh, non metterlo Gesù no, adesso lo alzerò come un riccio per cazzo in creativa Ma mi va off la live Perché ti va off la live? Non so, perché va da 1.100 di finger No, cosa facciamo? Bocca Metto io, metto io, metto io, metto io Una mattina, mappa bella E' 2v2, no, 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 no Facciatevi 2 2v2 Facciamo io e lollo O io e gare Si, si, si No, sei forte Andre Non è vero Sono diventato molto 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 E' tanti A più forte Ma dopo è una cosa Non lo so Non penso Quanto Si Entra Andre Non so Non ho ancora capito Che garete C'è Lo so Chi è Ma non è qua Parla Io ero il portiere che giocava con voi Quando c'era tipo Samu No, non ha avviato C'era una cammeta squadra, scusate Vai qua Tornata al centro Tornata al centro Tornata al centro Ma giocavi con me Sì Sì C'è un giro di erba Oh sì Giocavo con Samu Ah ma, ah ma No io non ero con lui Noi Ti ricordi che sono vero Nell'altro Cioè tu eri allenato da Roberto No Avete fatto la mia Roberto Eh no io non ero Allenato da Roberto Ero con gli altri Ma eravate con Michelle Ma perché senti Ma è vero Raga entrate Entrate Eh cambiamo squadra Si io e lollo in squadra 2 Voi resti in squadra 1 Ok Lollo io vado qua Io vado in Nike Lollo tu vai Nike Io vado qua Vai Nike No vado qua No vado 300 di Pug Nulla 5 Raga me spara Se mi cimino è In via Eh Da reti di diritto Mi spazio Dai ma Eh lo so Non è venuto Non sono io Non vale cadere? Si si vale Far cadere Vale vale No 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 vale Se no non è Zone Wars Cadere vale si Se no non è Zone Cioè in pubblica Non è che Di certo compagno Al tuo nemico Di Eh beh Cosa me ne frega Bravo Hai fatto una bella giocata Sono stupito Devo salire così Se ne scrivete prove Beh Un'escremento Eh Ficca Non posso dirlo Vuoi dirlo Poi che ti dice Un'escremento Adesso non posso dire niente sono morto di 6 sì no perché non avevo ancora scelto la squadra cioè deve andare non la squadra scudo vendola vero a 80 anni che ho perso 80 di vita ora c'è 50 no scherzo sono 180 di vita riscremento come hai fatto salvarti aperto e quino stermi qui a ah 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 ma sono sempre da soale stacco di ovvio bella raga bella mia amica badu cinto oh diok yari pencetan oh hai 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 e vai su inaugurò ok vabbè adesso che sono i nike ci scommetti che adesso che sono i nike non mi salta ma adesso che sono il nike non mi salta ma invece quando sono andato in mid ground non mi ha mi ha saltato o cavana non fa calo sterco di ovino equino salentino sei un equino salentino non vogliamo parlare di questa tecnica andiamo sopra la monta la monta la nana non ha più mazzo ma non aveva più mazzo non è vero ma stavate 50 renegade andata aiutare la mia renegade scusate scusate per altra cosa è una delle scelte oddio mi son trovato alla renega è io no mi hai chiuso fuori ma non sto capendo un pittero tu non stai capendo un pittero uguali no da la safe ma sono sempre bella non sopportiamo sono caduto non ho messo in mente te la puoi fare fuori safe ahhh non è di sa la vita ma l'altra stava facendo era perché lui si sapeva che sta coltando le mie scale uno di vita vai tu in ai vai tu io vado sempre mid io vado non vado in ai vai tu in ai vado no ora si muove di vado la legate io non so perché certo che che è il mona che è caduto l'altro ho visto il mio compagno non scendere rimani sempre sopra però da non morire da caduta rimane sempre sopra da non morire da caduta guarda guarda lo lì che voleva fare cadere mi vinto mi vinto mi vinto 20 croft lo l'ho craccato un po' ho fatto 5-2 però si che mi chiude sempre fuori non mi chiudere scusa mi è stato toccato da me uno da me Ale da me non so che da me ci sei tu ma mi muori sempre non è possibile no sono andato in cina vai e che ti succede se vincina covid eh eh non so covid 30 32 200 ok 160 vabbè vabbè scusa è fatto male è fatto male no 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 vai vado sempre in mid quasi qua ma loro non tengono la idea loro sono dei cagli fanno sprecare materiali e fai scendolo no Ale minchia muoviti vabbè in save io faccio solo due scale 2 90 e basta secondo me non è che sia tecnica come c'è nato da casa per casa per casa sopra uno l'ho laserato però c'è uno di tinto come mi vale sei in can in can oh mio che ce la clutch vai li avete buttato giù buttano giù butteremo anche lui 100 eh 70 non c'è il da dai clutch la vedete che ci ho buttato giù vieni ecco non c'è giù ma sono giù ma sono giù ah sono morto 3 li ho tolto 3 bello hai visto che grazie a questa hit pusciatemi non fatemi cadere però pusciatemi se avete coraggio non ho il coraggio allora vabbè proprio mi stavo complicando ah non parla guarda guarda il tra biliardino di Ale che non parla ah no lasciando comunque che ho fatto 800 prima guardate ragazzo all'inzittito si chiama dai aldi non cade su molla mi fa un 200 una scelta ma anche la finisce il line ora mi ero mutato ma anche prima non mi sentivate tante di quelle parole si ha detto un bordello di roba parlava da solo prima detto che it della vasti si che it nella madonna che ho fatto ad andrea e lì il 29 inercia quando mi son buttato assurdo ad andrea rock e moda ho ottenito la madonna in click facciamata sinistra io li faccio a sinistra cosa ridi 23 a renegade sono morti tra orbi io andre stiamo facendo batte tra orbi siamo nel gulag oggi ho vinto 5 gulag di fila non c'è un cancro ragazzi no va bene hai capito una volta va va buona fai cari vinciamo per tutti non lo stai cosa fai dai non vale fal cadere adesso facciamo due round senza fal cadere va bene due round 2 1 2 guarda lui va sempre sempre e fa cadere no tu muo guardalo ancora vai ah ero davanti a te ero davanti a te c'è una scureggia morto una che è morto una oddio una scureggia la scoreggio chiamare una di vita mi sei morto ci scommetano sei morto senza diciamo one hit vabbè 30 farò col pompo dimmi quando fu oh no oh 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 ma non un tempo infatti 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 lui aveva detto si metti una box e va ma quale fare box una un 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 bene unico messi insieme 40 avete capito dove sono è obbligato un po caso la minestra noccato caracca lo sciolgo 30 30 30 sui denti 30 sui denti a fare le 10 si muove sempre no no la schiena ok va bene la vera fallita la signora non è la vera gustatemi dovete curare orca minestra vero eroico andiamo a fare basti tanto io trovo 5 minuti devo andare da vabbè finiamolo facciamo neanche lavoro qui e io 35 minuti vado quindi se volete fare basti gay si va bene mi dedichi raccato la skin care bene basta dire la mia falsa imitazione capisco no sto scherzando ehi a nel line parco di cacca ma mamma mia volo e raggiungere tutto il corpo di caccao segnalo ci segnalo faccio diventare una pianta michael schumacher style no perché meritato è eliminato e accetto ok vai che occhio c'è 117 di scelgo ma mi chiare se sei un dito adesso mi fai cadere io mi buti giù no bella raga che che mi sta seguendo l'ora non aveva per scendere è morto è morto non aveva per scendere per scendere ma non è più buon attrazione tra iardo ai sui tagliato di strogo a una foglia ci faccio mille mille faccio mille in bocca mille mille che ha detto ti faccio mille adesso mille loro mi sa che sono molto giù non credi no ma io visito da camminare quattico dei peni dei peni dei peni pelati nudi a cagare non mette piramide di essere inizio io essere agito volevi farmi e ben giudo da la nata e va bene che ho passato tutto ma è morto si è ancora vivo no no mi chiamavano l'uomo in buona compa di calo in gola 21 perché non è morto ma che dita di schifo no lo è morto ma non c'è no no c'è tre yard come un drago i draghi è bellissimo come la gara che non tra iardo no fortissimo non ti ha visto come i draghi non tra iardo è bellissima ti prego ti prego mi allora ti prego mi mandi tipo come un saluto ramarro marrone ma prendo come i nomi no no non era il bar che non sono entrato no 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 mi piace ho fatto strano per la fece siamo adottata la fece ho dovuto mangiare il pece a noi vivo e vivo e fermo e sono lì che non ti hanno grande bro come fate colpire tanto che è morto metto le strutture e struttura me la mette davanti e non sotto va bene davanti sistemi che il domani andrà che tu c'è mille di pinghio uno no scarsi io c'ho 20 ma perché moccetta anno a 66 fps scudo no no c'è un culo di schifo brutto vermi ignobile scusa già c'ho una kill brutto vermi ignobile io sei ignobile se non te lo fai sei un culo no no ci stanno umiliando no raga partiti sto giocando davvero malissimo se non si fosse notare che non si fosse notato allora il figlio di averle sei settimè questo devo dire goer to chuck il creatore di corno di fornette no quindi non lo chiede si prega la strega quando non è il creatore di fornette questo ma è uno dei face face mecca meccano mecca 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 no mecca che mecca la mia pila biglietta cento in the face cento in the face non è guarito di più verrai e vado no 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 Grazie.